Luca Frigo domani esordio, stagionale contro il Foralberg, è una squadra completamente nuova te il resto, che cosa ti aspetti da questa partita? Sicuramente non dobbiamo prenderla sotto gamba, abbiamo visto che possiamo giocare bene e dobbiamo fare così, purtroppo l'ultima partita che trova il Pulsaria non è stata quella che ci aspettavamo, però adesso inizia la stagione, dobbiamo prendere punti da subito. Ecco, Bolzano appunto giocherà 4 partite consecutive in casa all'inizio della stagione, quindi sarà importantissimo partire con il piede giusto, partire con il piede giusto anche nelle singole partite, perché i Foxes nelle prime uscite prestagionali hanno dimostrato più difficoltà forse nel primo tempo, nei primi tempi e poi hanno ingranato a match in corso. Come hai detto te, giocare in casa è sicuramente un aiuto, però non dobbiamo iniziare dal metà secondo tempo, terzo tempo, dobbiamo iniziare dal primo minuto e continuare per 60. Come vedi questa squadra? Tu sei qui da tanti anni, ormai è una squadra quasi completamente nuova, è stato un training camp lungo, con tante partite, come la vedi questo HCB in versione 22-26? La vedo bene, il gruppo è unito e tutti hanno voglia di fare bene e arrivare fino in fondo, quindi sarà un bel challenge per noi, però andremo avanti col piede sul gas. Io ho ho fatto un po' di spiello, è sempre un po' di spiello per la Saison, per le persone molto importante, perché tutti vogliono il nostro spiello a fare la preparazione, per cui abbiamo fatto una preparazione, per cui abbiamo fatto una preparazione direttamente sul metà. E' un po' di spiello, ma siamo molto preparati e possiamo in questa Saison in cui in questa Saison potremmo. Io ho visto il team molto bene, abbiamo lavorato molto bene, i ragazzi stavano sempre in l'eishalle e arrivati sempre in un'eishalle per farlo, e io credo che abbiamo fatto un super lavoro, anche ora per l'ultimo l'ultimo gioco, ma non lo scopriamo, avevamo una buona preparazione, siamo pronti a venire il primo gioco a casa. Mike Deleuzen, il primo gioco inizialmente, ti fai contro una completamente nuova squadra, Cosa aspettate di Pioniers per l'Odberg? Aspettate che ci sono stati molto felici di cominciare la settimana come noi. Non so molto più di loro, sono ovviamente un nuovo team, quindi aspettate l'esperienza e siete pronti per tutto. Come avete visto il team in questa settimana? È stato fantastico. Credo che questo è un gruppo molto forte di ragazzi. Abbiamo diventato amici. Quando diventiamo amici, dopo questo ti cominciamo a cuore. Quando ti cominciamo a cuore, diventiamo una famiglia. E' quello che abbiamo costruito qui, e ci sono solo buone cose da arrivare, credo. Cosa ti aspettate per la prossima settimana? Sì, sarà sicuramente una strada per i top 6? È sicuramente una strada, ma credo che siamo pronti. Abbiamo una squadra profonda. Abbiamo una buona squadra. Abbiamo un buon gruppo di ragazzi. E' quello che sto dicendo sempre. Questo gruppo di ragazzi non ci sono alcuni limiti. Non ci sono alcuni limiti che possiamo fare. E' davvero bello.